Nuova stangata per le famiglie, l'incremento annuo sui salari di colf, badanti e babysitter sfiora i 2000 euro. Non c'è stato accordo tra sindacati e datori di lavoro, nessun compromesso per evitare i rincari e a carico di chi assume per curare anziani, bambini e casa. Le misure concordate in sede di Commissione Nazionale dalle parti sociali coinvolte sono onerose. L'adeguamento degli stipendi all'inflazione scatterà in automatico. Rispetto ai minimi del 2022, indica l'Associazione Nazionale dei Dattori di Lavoro Domestico, l'aumento è pari al 9,2% mentre per i valori di vitto ed alloggio arriva all'11,5%. Secondo i calcoli effettuati nelle scorse settimane dalla Fidaldo, la Federazione Italiana del Lavoro Domestico, per un abbadante a tempo pieno la spesa sale di circa 125 euro al mese che, considerando tredicesima ferie e trattamento di fine rapporto, comporterà appunto oltre 1.900 euro annue con decorrenza dal mese di gennaio 2023. Da una parte si rischia la stancata per le famiglie e dall'altra c'è purtroppo la possibilità che si ricorra sempre più al nero. Occorrono misure in grado di tutelare entrambe le parti, come ad esempio la deducibilità delle spese per corte badanti e babysitter.